36 lastre quadrate di puro zingo e magnesio posate su un pavimento in modo alternato contrariamente al tradizionale concetto di scultura questi pezzi sono separati tra loro e ognuno di essi può essere spostato e scambiato con un altro non sono stati costruiti per formare una struttura verticale ma per creare una superficie piana sul pavimento non si sviluppano in altezza nello spazio imponendosi allo sguardo dello spettatore ma si fondono con il pavimento per essere calpestati andrei originariamente influenzato dall'opera di frank stella e di constantine brancusi dal 1960 al 1964 lavorò alla pennsylvania railway utilizzando unità standardizzate intercambiabili